Buongiorno, io sono Mauro Dell'Olmo, sono responsabile del settore sanità e pubblica amministrazione per Avanad Italy. Avanad è la joint venture tra Microsoft e Accenture, fondata nel 2000, presente in tutti i paesi del mondo, anche in Italia, con 600 consulenti tra Roma, Firenze e Milano. Avanad sviluppa soluzioni per i clienti, soluzioni che valorizzino la tecnologia Microsoft e in particolare in questo contesto valorizziamo la tecnologia Microsoft CRM Dynamics con la nostra soluzione PRM. Io sono Paola Scarrone di Avanad e supporto l'azienda nella formalizzazione dell'offering specialistica per il settore healthcare. In questo contesto specifico parliamo appunto di Patient Relationship Management in quanto ci siamo focalizzati nell'adattamento della piattaforma standard di Microsoft del Customer Relationship Management all'adattamento alle esigenze specifiche delle aziende sanitarie per migliorare la qualità e l'ingaggio dei pazienti nei rapporti con le stesse. In particolare questa soluzione permette di migliorare la comunicazione con i pazienti sia in termini di prevenzione, quindi impostando quelle che sono delle vere e proprie campagne educative, ma anche in termini di miglioramento delle informazioni del paziente stesso e di comunicazione con eventuali ingaggi in terapia a lungo termine per la gestione dei pazienti cronici. Tutto questo basato sulla tecnologia Microsoft. Vi ringraziamo per l'attenzione e vi salutiamo. Grazie.